Il censimento è una fonte insostituibile di conoscenza per la collettività e rappresenta un momento importantissimo per esplorare alcuni ambiti della vita sociale, economica e culturale del Paese. A tutti gli effetti rappresenta un grande momento di dialogo tra cittadini e istituzioni. Ci consente di conoscere le abitudini dei cittadini, le loro scelte, i loro spostamenti tra il lavoro, spostamenti per motivi di studio. Ci consente anche di conoscere le nostre città, di conoscere l'età delle abitazioni e di conoscerle nel dettaglio, entrando non solo a livello comunale ma in alcuni casi anche a livello subcomunale. È davvero un momento importantissimo di conoscenza per la nostra nazione. Il censimento ci consente di aggiornare il profilo delle famiglie e di seguirle nel loro processo di trasformazione e di movimento durante le generazioni. Grazie alla partecipazione degli italiani al censimento noi potremo restituire al Paese delle informazioni essenziali, ad esempio sulla partecipazione dei più piccoli ai nidi, sulla scuola, sulla formazione, sulle scelte nel lavoro e questo consentirà alla politica di avere materiale, dati e informazioni adeguati per scelte politiche maggiormente consapevoli. Ci siamo impegnati a pubblicare i risultati entro dicembre del 2024. In quell'occasione restituiremo al Paese un quadro granulare della situazione e delle informazioni che scenderà sotto il livello, in alcuni casi anche sotto il livello comunale. Informazioni che sono rilevate con estrema accuratezza e con standard di qualità definiti a livello europeo.